Spazzola pallavolo con il volley carimate, siamo con Mauro Tettamanti, allenatore della prima squadra che disputa il campionato di Serie C e anche aiuto allenatore della nazionale Under-19 che ha vinto il 10 settembre a Tirana i campionati europei. Com'è vincere un europeo e una medaglia d'oro? Sì, direi che è stato proprio emozionante dalla prima palla all'ultima che è caduta, quindi è un sapore dove veramente è stato diverso rispetto a un'esperienza normale di club perché è tutto condensato in due mesi e puoi sentire appunto l'inno nazionale ogni volta è qualcosa di incredibile. Facciamo vedere, bellissima, una medaglia d'oro conquistata da Mauro. Sudata insieme allo staff, numeroso, alle ragazze, sì. Alleni Carimate, gli obiettivi di questa stagione? Allora, a Carimate abbiamo fatto una squadra nuova rispetto all'anno scorso perché sono cambiate tante ragazze ma l'obiettivo non vuole essere solo salvarsi ma vorremmo provare a puntare a fare qualcosa di più perché le ragazze secondo me hanno le capacità per farlo quindi siamo pronte a calcare il campo sabato 3-10 ottobre con Pavia che è l'esordio e posso assicuro che anche quest'anno se lavoriamo duro si toglieremo delle buone soddisfazioni. Complimenti ancora, andiamo a conoscere tutte le squadre del Volley Carimate. Certo. Ecco il mini Volley La squadra dell'Under 14 Il gruppo dell'Under 16 Il gruppo dell'Under 16 L'Under 18 La squadra della seconda divisione E per finire la prima squadra che disputa il campionato di serie C Il gruppo dell'Under 16 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 Grazie a tutti.